Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi parlerò di Atalanta, Paris Saint-Germain, la vita in Paris Saint-Germain negativi 3 minuti, complimenti a Paris Saint-Germain, l'Atalanta la sblocca con Pasalic, Pasalic, ma che tiro, ma che gol ha fatto quel Pasalic, poi è venuto fuori un altro Paris Saint-Germain e se la porta a casa, nel primo tempo finisce il vantaggio, l'Atalanta nel secondo tempo non brillante come ha fatto nel primo tempo, l'Atalanta spaziava via i palloni, manteneva il risultato, come è giusto che sia, ma il Paris Saint-Germain non l'ha fatta bene all'Atalanta e quindi se la porta a casa il Paris Saint-Germain, per me è meritatamente, perché non è che ha disputato una brutta gara, cioè ha giocato pure bene il Paris Saint-Germain, poi ci sono state anche delle occasioni non sfruttate bene dal Paris Saint-Germain, quindi l'Atalanta si è tenuta in partita fino all'89 in qualche secondo, poi arriva il gol del Paris Saint-Germain, arriva anche il secondo e ribalta la partita in 3 minuti ragazzi, comunque l'Atalanta se l'è giocata, complimenti a tutte e due le squadre, comunque passa il Paris Saint-Germain, passa il semifenale, e ora devo aspettare una semifenalissima, una delle due di Lipsia e l'Atalanta di Madriga. Ragazzi, direi di iscrivervi quel video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ciao ragazzi!